E allora salve a tutti ragazzi, oggi faremo l'unboxing di Splatoon Ah, incominciamo Cioè lo Splatoon è una limited edition Ehm, un momento Apriamo Ok Apriamo Apriamo Uh, guarda, guarda Qui c'è il gioco Splatoon è tutta la sua bellezza E qui c'è L'amiibo, che si trova solo qui dentro Quindi è una grandissima rarità Poi dovremmo aprire la spostina Ok Voila Uh, che figo sto cd Ok, non c'è niente Di Istruzione, ma va bene Tanto a me non mi sembra Il cd è una figata L'amiibo si possono usare Quello dell'ingling femmina L'ingling maschio E Questa figata Sono contento di avere questa edizione limitata Non la sciuperò per niente E E' bellissimo Appunto E il mio video è finito qua Giustamente perché Cosa devo fare ancora Ma comunque Ti adoro E ti adoro anche a te Chiudiamolo E la cosa E' troppo figa Basta Comunque Vabbè E Ci vediamo nel prossimo video raga Grazie